Ci vediamo lunedì 17 febbraio a Milano presso il Teatro Parenti alle ore 19. Vogliamo parlare, discutere e confrontarci sul Family Act, perché noi siamo quelli che vogliono investire nel bene più prezioso che abbiamo, l'umanità, le comunità e il futuro. Abbiamo sogni grandi, ma ancora più grande è la nostra determinazione a far sì che questi sogni diventino per il nostro paese una storia possibile. Per questo vi aspetto, ci vediamo lunedì. Ciao!